Nadia Dignani è l'insegnante dell'Istituto Comprensivo Lucatelli della città di Tolentino, referente del progetto Teatro Opera Scuola, che vede coinvolti circa 300 ragazzi. Sì, circa 300 ragazzi, che vanno dai bambini dell'infanzia, quindi dai 4 anni, fino ai nostri ragazzi della scuola media. Un progetto partito lo scorso settembre, in che modo? Allora, noi abbiamo partecipato a un bando indetto dal MIUR, siamo arrivati come scuola a secondi, e quindi grazie al finanziamento del MIUR, proprio legato all'arte, alla musica e al canto, abbiamo pensato di mettere in scena la cenerentola di Rossini, proprio per onorare, festeggiare i 150 anni dalla sua morte. È un progetto che ha visto coinvolto innanzitutto un gruppo di insegnanti, perché abbiamo dovuto riadattare l'opera rossignana ai bambini, quindi scriverla per loro, per metterla poi in scena in base alle loro capacità, perché abbiamo detto partiamo da bambini di 4 fino ad arrivare ai 12 anni. Poi vi siete avvalsi della professionalità di Serena Pasqualini, Fabrizio Romagnoli e di altre figure del settore. Sì, grazie a Serena, grazie a Fabrizio, che sono anche intervenuti nella nostra scuola attraverso dei laboratori, quindi i bambini hanno fatto proprio un percorso legato all'opera, per quanto riguarda la musica, l'ascolto di alcuni brani, delle voci, del teatro. Tutto il nostro percorso quest'anno è stato incentrato su questo, su Rossini. Allora Serena, un percorso che vi ha visto coinvolgere i ragazzi a partire dall'inizio di questo anno scolastico? Sì, abbiamo iniziato già da settembre con i ragazzi, ma è stato fatto un lavoro precedente. Abbiamo iniziato giugno scorso nello stendere il copione che poi i ragazzi in questo periodo lo stanno mettendo in scena con alcune maestre fantastiche che veramente fanno la differenza, hanno fatto la differenza. C'è stato un coinvolgimento molto bello da parte loro, è per questo che siamo riusciti a portare a termine, stiamo portando a termine questo progetto, perché è un progetto molto importante per i ragazzi. E tu stesso Fabrizio, hai avuto modo di tenere un'apposita lezione per tutti questi piccoli alunni? Bello, è stato meraviglioso perché innanzitutto le insegnanti, la maggior parte di loro le conosco, perché siamo coetanei, eravamo bambini insieme, e vedere loro recitare così, questi bambini, è stato bello, hanno fatto tantissime domande e mi sono sentito molto utile, si può dire, perché insegnare di nuovo che cosa significa il teatro, l'opera, comunque sempre teatro si sta parlando, è una cosa fondamentale in quanto si sta perdendo veramente il gusto e la cultura di andare a teatro. Io vedo tantissimi teatri vuoti a Roma, io adesso vivo lì, e quindi l'idea di poter mettere qualche piccolo seme in loro, questa curiosità, questa voglia della recitazione, questa voglia della platea, e poi fanno le domande, com'è il palcoscenico, com'è, che c'è sopra, che c'è dietro, come suonica, è bello insomma, ha fatto molto piacere. La danzatrice Alessia Tiberi si è occupata di curare le coreografie di questo spettacolo, tanti bambini coinvolti, qual è stato l'approccio che hai scelto di usare con ognuna delle diverse classi? Allora, con i più piccoli abbiamo lavorato non tanto, diciamo, sulla musica, quanto su dei disegni geometrici nello spazio, e poi abbiamo lavorato con quello che è, diciamo, la gestualità dell'animaletto che vanno a rappresentare, perché loro fanno i topolini e gli uccellini, quindi abbiamo lavorato più caldo su questo. Invece sulle classi più grandi siamo andati a lavorare su, magari, elementi che prendevano più, tipo coordinazione, oppure anche disegni nello spazio, un pochino più complessi.